Partiamo dall'ultimo minuto, vai racconta. Sono contentissimo che mi sono potuto sbloccare dopo due o tre occasioni che sempre come le altre partite mancava un pelo. Sono più che contento che mi sono sblocato, anche contento per quello che ha fatto vedere la squadra nel secondo tempo, che si vede che la voleva vincere, erano 11 persone con quelle con la panchina aggiunta che volevano vincere una partita. Purtroppo le cose capitano, quello che è successo nei primi minuti, però abbiamo fatto un buon segnale penso. Soprattutto potevi trovarlo subito il gol, hai calciato forse troppo bene al volo di corsa. Venivo con la rincorsa, ho detto che ho calcio forte, se provavo a calciare piano secondo me non veniva bene, però per fortuna dopo lo sono ritrovato. Non so se ci puoi dire anche in occasione del palo, perché erano tutti i giocatori del Pescara lì davanti, cosa è successo? Se sono sincero sono partito da dietro, però come l'altra volta che mi hanno fischiato un gol regolare fuori gioco, anche questa volta certamente era di minimo, però vedono lì che era da solo. Lì tocca decidere a loro, secondo me non è che era non valido. Decisivo l'impatto fisico tuo di De Marchi, sei d'accordo? Fisico in che senso? Forza fisica che avete dato. No, anche i ragazzi nel primo tempo hanno fatto un primo tempo di tanta corsa, tanto lavoro, si è visto che tornavano tanto indietro. Ti dico, in quella partita lì che bisognava un po' di qualche persona fisica, è stata una cosa bella entrare e più che altro dare questo aiuto con Dima alla squadra. Una domanda una da studio, liberiamo Ferrari. Fabio. Io volevo chiedere a Ferrari se da fuori ha visto la stessa cosa che abbiamo visto noi dalla televisione o dallo stadio, nel senso che secondo me le prorogative del Pescara nella fase offensiva sono anche di attacco molto agli spazi e alla profondità. Tu dalla panchina, visto che magari avevi un occhio un po' più lucido e un po' più neutro rispetto a quando si è in campo, hai notato anche tu il primo tempo che il Pescara ha fatto un po' di fatica ad attaccare questi spazi rispetto al solito o soltanto un mio punto di vista? Diceva Fabio Ferraresi da studio se nel primo tempo tu dalla panchina hai notato un po' che il Pescara faceva fatica ad attaccare la profondità che è un po' la caratteristica vostra. No, non è che faceva fatica, erano molto schiacciati loro, molto aggressivi, quindi è una partita difficilissima, loro sono venuti qua a giocarci la tuta, molto aggressivi, quindi è stato difficile per loro, però ti dico contentissimi per quello che ha fatto dopo la squadra, che si è visto proprio un cambio radicale.